SIGLA 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 Buongiorno, signora Maria. Buongiorno. Buongiorno. L'amore è bellissimo. Da quanto tempo non fate più l'amore? Due mese. Sei due mesi, due anni. Che cos'è? Mi vuoi sposare? Ok. Mi-hai! 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 Forse pensano che io sia solda. Vendi questo benedetto ristorante. Vendi questo benedetto ristorante. Vendi questo benedetto ristorante. Vendi questo benedetto ristorante. Finché hai chiuso la porta? Lo sai che hai combinato? O la stiamo bloccando? Come bloccati? È disposta a fare qualunque cosa, pur di non perderti e farti felice. Io ho detto tante bugie. Ma soltanto per l'amore. Soltanto per far felice la persona che amo. Io sono innamorato della vita. Io ci credo molto nell'amore. Ci credo! C'è mannante! No, 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 no! Ti prego, ti prego, ti prego! Vai, vai subito! Vai subito! Vai subito! No, non ce la faccio! Non ce la faccio! Non ce la faccio! Non ce la faccio! No! Vieni al ristorante. Fuggiamo in te. Ti piace Maria? Come ti viene in mente? Rinuncio per una questione di coscienza. Stai mentendo. Perdonami. Ti chiedo scusa, Maria. Ma tu non puoi sposarti con Leo. L'amore è bellissimo! Eh sì! Adesso sento che sono pronta anche per il senso! Pure io! Non ci far5 persone. Bah quando vediamo... Non ci far5 persone! Ci che qui quando ora va può essere grandu? Ci scherani!